La fascia di età 0-19 anni rappresenta il 3,1% dei casi positivi totali di coronavirus registrati in Toscana e di questi i bambini sotto i 10 anni sono il 30%. Emerge da un'indagine dell'Agenzia regionale di sanità sull'epidemia nelle fasce più giovani, quelle che meglio hanno reagito al contagio. Sotto i 10 anni l'85% dei positivi è risultato asintomatico o paucisintomatico, mentre i casi severi sono appena al 3%. Nessun caso severo è stato registrato nella fascia di età tra 11 e 20 anni. Riguardo ai luoghi di contagio, tutti i bambini e i ragazzi toscani si sono contagiati all'interno della famiglia oppure durante un'attività di tempo libero. La distribuzione territoriale dei casi nei bambini e ragazzi ha avuto in Toscana una maggiore concentrazione nell'area nord-ovest e sud-est, vicino alle zone di confine con le altre regioni, per capire se i bambini possano o meno infettare quanto gli adulti in quanto più frequentemente paucisintomatici o asintomatici, spiega Fabio Voller, coordinatore dell'osservatorio di epidemiologia della ARS. Sono necessari studi epidemiologici ad hoc su ampia casistica, che trascendano i confini regionali o anche nazionali. Sarebbero informazioni fondamentali, prosegue, per poter prendere più serenamente decisioni in merito, al ritorno a scuola.